Questo è il rompicapo del cannone e l'obiettivo è quello di trovare la bomba del cannone che è nascosta al suo interno. E non so per quale ragione la maggior parte delle persone prova a trovare la soluzione all'interno del carretto, ma non è qui la soluzione. Infatti bisogna prendere il cannone e iniziare a svitare la parte superiore in questo modo. La bomba si trova infatti qui dentro, ma per avere l'accesso a questa parte segreta del cannone bisogna svitare anche la parte inferiore, accorgendosi però che qui manca un pezzo perché qui dentro non c'è proprio niente, bisogna come trovare un cacciavite per aprire questa parte qui e il cacciavite segreto è nascosto all'interno della vite della parte inferiore del cannone, come potete vedere. E ora grazie a questo cacciavite possiamo così svitare la punta del cannone e trovare la bomba al suo interno. Mi raccomando seguimi se vuoi vederne altri!